bella a tutti ragazzi oggi facciamo una nuova reaction solo che stavolta coi bambini ok prepariamoci e via si parte l'avevo già visto quindi non mi fa ridere quel batterista anche questo è andato giù dritto e l'aveva tutto rotto ah si è brava questa l'ha fatto una scureggia alcuni li ho visti già e abbiamo capito e quindi questo l'avevo adesso secondo me lo prende in testa uno fungico va bene dai siamo serissimi non ci fa ridere niente no non mi piace questa pallina proprio zero è arrabbiatissimo nooo impassibile quello l'hai visto nooo l'ha cucinata l'ha cucinata è stata bravo bravo un tuffa bomba era anche meglio molto bello questo 810 oh si è spaventato il telefono nooo è il rossetto nooo non è un rossetto non è un rossetto è il pastello il pastello ah questo è un meme viralissimo va bene va bene eh nooo non gliela dai non me la mangio io oh povero papà ah questo l'ho già visto lo becca in pieno no era tu nooo poi l'ha messo su un super saian ho tutti per terra vieni sul chat to oh poverino adesso è ch subscription adessoτε quinta ah 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 esatto Stagezzato guarda che le ha messo il frappè il frappè lì DATEMELO! Palloni che vuole... no! Cosa abbiamo qua? Ah questo l'ho già visto! Cosa abbiamo? Oh! Ha rapito! Nascondiamo tutto! Oh così non lo trovano! Eh questo è impegnato eh! L'avevo già visto anche quelle mie... Eh al pirano! E' virale! Suona questo eh! Oh! Questo è un gioco! Si! Giri le manovelle e ti arriva la... Oh! Oh! Ha messo borrotalco! La zanzara se la prendo... Oh! Ma che male! Oh! Che teneri! Bibi! Via di sotto! Aia che male! Aia che vuole Snoopy! Si! E' uno Snoopy! Toh! Vai via Snoopy! Oh! Non ha beccato la piscina! Attenzione questo è un Halloween! Cos'è un Voldemort! Voldemort! Forse è meglio andare via! Oh! Bravo bravo! Scrivi per giacardicello eh! Attenzione al salto! Meno male che c'è sulla giubbetta! Due! Oh! Ops! Il vetro del nonno! Allora! Noi andiamo qua! Dentro eh! Noi non ci voglio! Ho scappato da pipì? Ho scappato da pipì? Ha preso in pieno! Capriola! Capriola in acqua! Capri... No! 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 Capriola sul bordo! Capriola in acqua! Capriola in acqua! No! Cade come l'altro! E per oggi è tutto e ci vediamo in un prossimo video! Ciao! Ciao! Ciao!